Musica Venaggio e Cadenabbia sono nel campo più british d'Italia, 1907 è stato aperto e non è un caso perché nel 1907 sono stati inaugurati tantissimi campi importanti come ad esempio il Pynost numero 2 dove si è giocato da pochissimo lo US Open Championship è un campo storico, qui hanno giocato tantissimi giocatori importanti nel 1923 qui addirittura ha giocato Harry Taylor che faceva parte del grande triunvirato insieme a Vardon e Braid vincitore di 5 Open Championship che ha collaborato anche al disegno di questo percorso quando è diventato da 9 buche a 18 buche insieme a Mr. Wyatt sono stati grandi protagonisti di questo percorso Poi nel 1961 arrivò la famiglia Roncoroni con Antonio Roncoroni, il presidentissimo e padre anche dei professionisti italiani è stato stravolto il disegno del campo, sono state aggiunte 4 nuove buche, 8 sono state modificate il padre è stato portato da 64 a 66 fino a 69, fino al 70 nei giorni nostri per un totale di 5.800 metri un percorso molto stretto, delicato Far and Sure è il motto che c'è sullo stemma del circolo un consiglio che si dice perfettamente a chi comincia a giocare qui a Menaggio Benvenuti a Menaggio T della 1 di questo par 4, iniziamo subito con una buca piuttosto complicata un par 4 di 393 metri, è molto stretto, bosco a destra e bosco a sinistra è un po' nella caratteristica di questo campo ed è una buca che va giù in discesa quindi il t-shot è molto molto delicato, io non giocherò al driver, giocherò un legno 4 per mettermi a circa 210-215 metri per poi poter attaccare il green con il secondo Per quanto riguarda invece i giocatori meno esperti che giocano un par 4 più corto, circa 325 metri è bene posizionare il primo colpo nella parte sinistra del fairway dove è più piatto per poi giocare un secondo colpo davanti al green ed attaccare il green con più facilità da circa 50-60 metri da evitare tutta la parte destra del fairway perché pende verso il raffo adesso legno 4 ed eccomi sul fairway, t-shot direi dalla parte giusta sono nella parte sinistra, quindi è un'entrata al green abbastanza buona si gioca dall'alto verso in basso con un leggero vento a favore sono circa 155 metri dalla buca è importantissimo posizionarsi qua perché si è fatto quasi il 90% della buca bosco a destra e bosco a sinistra sono molto pericolosi adesso io da questa distanza, ho detto 155 metri più o meno, giocherò un ferro 7 per il green eccomi sul green, green abbastanza grande per una buca difficile lungo circa 28 passi ed è diviso in due settori la parte alta, questo piccolo gradino e poi la parte bassa intorno tre bunker, sono due nella parte sinistra, uno copre la parte centrale e un altro nella parte destra questa è una bandiera insidiosa, lunga perché dietro c'è una piccola discesa quindi ho preferito giocare a centro green ma ho chiuso un po' troppo il mio secondo adesso ho due patte per il quattro che non è mai un cattivo risultato per questa prima buca la menaggio e cadenabbia non è solo golf menaggio, il campo e la sua storia la storia del golf club menaggio risale al 1907 quando la zona del lago di Como era una delle mete turistiche più frequentate da industriali e commercianti l'idea poi nacque da quattro gentiluomini inglesi che particolarmente affascinati da questi luoghi così suggestivi e dal clima sicuramente migliore del nord Europa decisero di fondare lo storico percorso abbiamo festeggiato i 100 anni nel 2007 e stiamo andando avanti nella storia di questo circolo e ci stiamo preparando per festeggiare i 110 anni una parte della storia di menaggio è anche racchiusa nella sua biblioteca e nella clubhouse la clubhouse è rimasta quella del 1907 modificata poi con alcuni nuovi inserimenti nel 1961 biblioteca che ha un valore inestimabile e che rappresenta una delle prime due biblioteche non tanto come numero di volumi ma come valore e come storia del golf che esiste al mondo grazie!